L'Istituto Lucca 6 diventa punto di riferimento per l'introduzione della lingua dei segni nelle scuole. È stato infatti presentato alla Chelini di San Vito il progetto Bilinguismo e Inclusione per insegnare ai docenti la comunicazione con gli alunni sordi. La prima tranche formativa di 30 ore, finanziata dalla Fondazione Banca del Monte, vedrà coinvolti 25 insegnanti. Come ha ricordato il dirigente scolastico Giovanni Testa, la sperimentazione nasce da un'esigenza concreta. Otto anni fa alla scuola dell'infanzia si iscrisse un alunno sordo e la famiglia, con il sostegno dell'ente nazionale sordi e del comune, intrapresa una battaglia legale anche con ricorsi al TAR per ottenere dal Ministero la necessaria assistenza e poi la presenza di una docente di sostegno specializzata, Michela Ciucci, che seguisse il bambino durante le elementari. Negli ultimi anni la presenza nell'Istituto 6 di bambini sordi è ulteriormente aumentata. E sulla scorta della precedente esperienza è nata l'idea di creare un polo di formazione che possa essere di riferimento per le altre scuole. Da settembre quindi, nell'Istituto, in affiancamento agli studenti sordi, saranno presenti figure specializzate, come educatori sordi, assistenti alla comunicazione e docenti di sostegno segnanti. Da settembre partirà appunto questo progetto che non coinvolge soltanto le classi con all'interno studenti sordi, ma c'è stata veramente una grandissima richiesta sia dalle scuole materne, primaria e medie, di altre classi che erano interessate a fare questa esperienza e che quindi faranno un'ora, due ore a settimana di LIS. Da segnalare che la Scuola dell'Infanzia dell'Arancio, che l'anno prossimo accoglierà un alunno sordo con sindrome di Down, per garantire la completa inclusione dell'alunno, ha deciso di iscrivere tutte le sezioni ai laboratori LIS. Ciò sarà possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Grazie.